Allora prova con i milanisti, prova con i milanisti, non è che c'è tutta sta bellezza stai, prova con i milanisti, loro non la vogliamo vedere, tranquillo, prova con i milanisti, loro sicuramente in questo momento, prova con i milanisti, cosa devo dire? Hai visto pure cosa ha detto Pioli? Stiamo viaggiando ai ritmi dell'Inter, ci crediamo fino alla fine, hai capito? Quindi Stellina, prova con i milanisti, fagliela vedere ai milanisti magari, noi, no, guarda, grazie noi interisti, non è che sei tutta sta bellezza poi, Dai, su, ciao Stellina, tranquillo